Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale youtube e sulla mia pagina facebook. Ho notato che non solo recentemente ma da sempre, negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, molti di voi ancora mi stanno chiedendo come poter aggiustare il tiro quando ci sono problematiche al gomito, come per esempio l'epitrocleite oppure l'epicondilite. E mi accorgo che probabilmente molti di voi ancora non sanno che io ho realizzato un bellissimo videocorso su quello che è il recupero funzionale del gomito. E la cosa interessante è che questo videocorso è stato eseguito con il fisioterapista Marcello Chiapponi con il quale ho già precedentemente realizzato un altro videocorso sul recupero funzionale della spalla che moltissime persone stanno già utilizzando da tantissimo tempo e che continuamente mi scrivono su facebook o su instagram per dirmi che con quel videocorso e con qualche piccolo accorgimento e con un lavoro più strutturato stanno progressivamente recuperando dai problemi che avevano e non solo quello ma hanno imparato a capire da dove viene e riescono a starci più lontano possibile. Quindi seguendo esattamente la stessa identica struttura di questo videocorso sul recupero della spalla io e Marcello abbiamo deciso di mettere a disposizione questo percorso per il recupero funzionale del gomito. Quindi se anche tu hai dei problemi al gomito che possono derivare da un sovraccarico funzionale da un'attività sportiva molto intensa da abitudini lavorative che sono molto intense, molto ripetute nel tempo e che sono difficili da evitare probabilmente con questo videocorso potresti scoprire qualche strategia molto interessante per riequilibrare tutta l'articolazione del polso e del gomito e riuscire anche a prevenire nel lungo periodo le recidive di queste problematiche. Quindi se fai sport per esempio dove utilizzi tanto la presa, se sei un climber, se sei una persona che fa molto lavoro di arrampicata se sei una persona che lavora nel contesto dell'utilizzo dei pesi quindi che fa un buon utilizzo dei bilancieri, dei manubri sicuramente utilizzare questo corso anche a scopo preventivo può essere un ottimo modo per evitare fastidiose noie alle articolazioni del polso e del gomito Trovi tutto ciò che riguarda questo videocorso sul mio sito www.alessandromainente.it nella sezione videocorsi Ciao 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 Ciao